ma che buon profumo ora mi verso un po' di latte che ci metto il miele miele vieni giù miele miele il miele è finito Ame me ne puoi fare ancora un po' non posso come mai? nel prato non ci sono più i fiori ma se li ho visti dalla finestra un momento fa sono proprio spariti e adesso io come posso fare? per macco ho finito il rosa e il giallo e tu come ti chiami? sono Raffaello Talponi pittore e che cosa dipingi? i fiori ma ho finito tutti i colori come mai i fiori sono spariti? sono nel mio magazzino vuoi vederli? si ma prima vado a casa a prenderti i colori questo è rotto questi sono sbiaditi vedi? bisogna dipingerli e quelli sono già pronti come fai a portarli fin qua giù? li tiro giù per le radici ecco guarda così e tu cosa sei? io sono una rosa rosa tu invece cosa sei? io sono una violetta viola e quello sul cavalletto? questo è rotto gli devo incollare un petalo ecco così è a posto potresti spingere in su qualche fiore? solo quando è primavera ma l'ape ne ha bisogno adesso sai? va bene farò un'eccezione tante tante grazie ti va di venire a teatro con me? ma io non ci vedo da lontano non c'è bisogno che tu ci veda non c'è bisogno che tu ci veda anche se non ci si veda è bello lo stesso è vero? sì e poi ci sento benissimo vado sul prato a raccogliere un mazzo di fiori no questo no come sarebbe a dire? i fiori servono all'ape per fare il miele lo sai e il miele ti piace tanto è vero? è vero cin cin è vero è vero